Rimane la fascia degli over 60, quella che preoccupa le aziende sociosanitarie alle prese con i rischi rappresentanti dalla variante Delta, l'Ulss 7 e Pedemontana, per questo sta concentrando la sua attenzione su questa fascia di età. Per quanto riguarda gli over 60 la disponibilità di vaccino è garantita e la somministrazione sta proseguendo nell'Ulss 7, sia nei punti di vaccinazione gestiti dai medici di medicina generale, sia nei centri di vaccinazione della popolazione gestiti direttamente dal personale sanitario dell'Ulss. Parallelamente in questo momento ci sono anche più di 8.000 posti disponibili nelle agende per la prenotazione delle fasce di età più giovani. Si tratta di oltre 6.000 posti per i cittadini tra i 19 e i 59 anni e un po' più di 2.000 per i giovanissimi tra 12 e 18 anni. In questa fase, sottolinea il direttore generale Ulss 7, la nostra priorità rimangono i soggetti più anziani, per i quali di concerto con la regione Veneto stiamo definendo specifiche iniziative. Per le fasce di età più giovani, probabilmente chi aveva trovato tutto occupato nei giorni scorsi non ha più riprovato a prenotare, ma voglio sottolineare che ora i posti ci sono.